Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale se già non avete iscritti, benvenuti invece ancora a chi non mi conosceva. Io sono Alessandra e questo è il mio canale in cui porto video che trattano di fitness e sana alimentazione appunto perché sono il mio stile di vita che amo condividere con voi ormai da tanto tanto tempo. E finalmente in questo video, dopo non so quanto tempo, vi mostro il mio allenamento. Ultimamente su Instagram state notando un po' di cambiamenti dovuti al fatto che sono tornata in palestra dopo praticamente tantissimo tempo. Cioè in realtà inizio estate, più o meno a maggio, sono tornata in palestra dopo tutto l'inverno in cui appunto mi sono allenata a casa. Sapete, se avete visto i miei video della scorsa quarantena, mi sono allenata praticamente a casa e in cantina da Alessio. Appunto perché lui ha qualche manubrio più pesante, quindi ci siamo allenati insieme nella sua cantina e lo ringrazio tantissimo. E poi appunto a maggio ho fatto un mesetto praticamente di palestra perché poi tutta l'estate, quindi gran parte di giugno, luglio e agosto non sono andata in palestra. Mi sono allenata a casa con allenamenti molto leggeri ma un po' così diciamo non molto focus sull'allenamento, sui miei obiettivi. Mentre da settembre sono tornata in palestra super carica e ho cominciato un nuovo programma di allenamento basato su praticamente tre allenamenti a settimana su Total Body. Quindi faccio tre allenamenti a settimana in cui tutte e tre le volte alleno praticamente tutto il corpo, ovviamente non tutti i gruppi muscolari perché è una cosa un po' impossibile. Perfetto, mia mamma con l'aspirapolvere. Allora vi spiego perché appunto la mia scheda è strutturata su degli allenamenti Total Body. I Total Body diciamo che sono degli allenamenti più al femminile perché aiutano tantissimo la circolazione sanguigna che sappiamo essere uno delle cause diciamo della cellulite a cui purtroppo io sono predisposta. Quindi ho deciso appunto di buttarmi su questo genere di allenamento ma anche perché in questo periodo non avevo appunto l'obiettivo di mettere massa muscolare bensì di migliorare anche le performance dei vari esercizi fondamentali come per esempio lo squat, lo stacco ed è quello appunto che sto facendo. Detto ciò io vi ricordo che è molto importante non copiare il mio allenamento alla lettera perché questa scheda è stata scritta su misura sulla mia persona quindi sulle mie capacità, sui miei obiettivi. È completamente soggettiva. È stata strutturata per me da Alessio che se mi seguite da tanto anche qui su YouTube sapete essere mio cognato. Non mi sono fidata a lui per questo motivo. Io penso che Alessio sia veramente una persona in gamba che studia, ovviamente è un personal trainer quindi potete se volete riferirvi a lui. Io vi lascio qui il suo profilo Instagram se volete andarlo a contattare. Detto ciò io vi lascio al video. In questo video appunto vi mostrerò il mio primo allenamento della settimana cioè dorso, spalle, femorali e glutei. Se volete gli altri allenamenti della settimana mi raccomando supportate questo video lasciando un like, un commento facendomi appunto sapere se volete gli altri due allenamenti della settimana. Prima di lasciarvi al video però volevo spendere due parole su questo crop top che sto indossando in questo momento che è di Prozis. È nuovo, mi è arrivato praticamente nell'ultimo ordine e vi giuro è stupendo. È appunto fatto in questo modo con la manica lunga e con qui il buchetto per inserire il pollice. Questo è un dettaglio che io adoro. È quindi molto corto fatto così, qui c'è appunto la scritta Prozis con il collo alto, dietro è così e nulla. Quindi se siete interessate io ovviamente vi lascio il link giù nell'info box e anche il mio codice sconto che sapete essere alle Maca 10. Nulla detto ciò io vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi sono Alessio e in questo video vi faccio io il voiceover appunto per spiegare gli esercizi che svolge Alessandra in palestra. Come possiamo vedere all'inizio ho una super serie tra la lat machine e il rematore. La lat machine appunto è un esercizio fondamentale per il grand dorsale, in questo caso andiamo a stimolare il grand dorsale. L'unico consiglio che vi do è di deprimere le spalle perciò creare una depressione delle spalle e come vedo in palestra da molte persone appunto che sbagliano di evitare di toccare con il bilanciare il petto perché è inutile e inefficace per stimolare il grand dorsale. In super serie appunto abbiamo un rematore con i manubri, in questo caso Alessandro utilizza una presa neutra che è la presa migliore fisiologicamente per il gomito e anche la presa migliore per coinvolgere il grand dorsale. Oltre al grand dorsale in questo caso coinvolgiamo anche l'upper back, perciò la parte superiore della schiena. Come secondo esercizio potremo vedere gli stacchi a gambe tese, un esercizio cardina appunto importantissimo per i femorali, in particolarmente per l'accorciamento dei femorali. In questo caso vi consiglio di mantenere le curve fisiologiche della schiena rette, oltre a questo vi consiglio di non farvi trasportare troppo dal peso senza abbandonare le scapole, perciò controllate sempre il peso. Infine l'unica cosa che vi dico è che questo esercizio si chiama stacchi a gambe tese, ma non bisogna fare veramente l'esecuzione con le gambe tese, bisogna mantenere sempre le ginocchia un po' flex. Come terzo esercizio ci focalizzeremo sulle spalle, in particolar modo una super serie tra le alzate verticali e le alzate laterali. In questo caso possiamo osservare Alessandro che fa le alzate verticali diverse dal solito che le vediamo in palestra, e fa in questo modo principalmente perché così si creerà più range di movimento, più movimento, perciò risulterà più efficace coinvolgere il deltoide anteriore. Successivamente in super serie farà le alzate laterali e metterà il busto leggermente più avanti per lo stesso discorso di prima, principalmente perché così coinvolgerà maggiormente il deltoide laterale. Naturalmente lavorerà sempre indirettamente anche il deltoide anteriore. Come quarto esercizio ritorniamo di nuovo ai femorali, ma in questo caso lavoreremo anche il gluteo, infatti ci sarà una super serie tra la leg card e il goblet squat, chiamato anche squat sumo, sempre fatto con il bilanciere. La leg card è un complementare che serve sempre per lavorare i femorali, in questo caso vi consiglio durante il movimento di raggiungere una massima estensione, mentre il secondo esercizio che è lo squat sumo lo facciamo in questo modo principalmente per coinvolgere di più il gluteo. Come facciamo a coinvolgerlo di più? Perché tramite questa posizione anche delle gambe si può raggiungere una buona profondità, perciò sempre più movimento, più range di movimento e più efficace. Come quinto esercizio ritorniamo di nuovo al grandorsale, ma anche a lavorare le spalle posteriori, infatti in questo caso noteremo una super serie tra un pull e basso e una variante del pull e basso. Il pull e basso, appunto fatto il classico, come potete vedere dal video, si deve svolgere sempre mantenendo un tronco perpendicolare al terreno. In questo caso sarà efficace l'esercizio, lavoreremo sempre il grandorsale, ma anche l'upper back, anche la parte alta della schiena. Nel secondo esercizio, fatto con i gomiti così alti, ci focalizzeremo soltanto sulla parte superiore della schiena, in questo caso dei dettori posteriori. Ritorniamo di nuovo a lavorare il grande gluteo, in questo caso tramite l'esercizio hip thrust, senza super serie, soltanto questo esercizio. Naturalmente può essere fatto col binanciere, ma anche con il manubrio. L'unico consiglio che vi do per svolgere al meglio l'esecuzione è di pensare di spingere verso l'alto con il bacino. Infine, come settimo e ultimo esercizio, andiamo ad eseguire una calf in piedi per stimolare maggiormente la parte interna del polpaccio. E nulla, quindi questo è tutto per questo video. Vi ricordo che se volete vedere gli altri due allenamenti della settimana, lasciatemi un like per supportare appunto questo video e fatemelo anche sapere nei commenti. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi e di andarmi a seguire su Instagram se ancora non lo fate. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo sul mio finale con un nuovo video. Ciao!